la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Uno TV, iniziamo subito con il mattino il titolo di apertura, migranti, il colle sferza l'Unione Europea, rigore non solo sui conti Brexit, lineatura della MEI, divorzio netto, intanto Tajani vince il derby tutto italiano della presidenza del Parlamento Europeo, battuto il socialista Pittella Centropagina, la visita Renzi a sorpresa da Paolo Siani a Scampia, ha voluto sapere tutto su Giancarlo Di taglio alto, bonus lavoro, portale fermo la Beffa Ims e Napoli Roma, la stangata ad alta velocità Il dossier, imprese, chi resiste supera il Nord Centropagina Semma Radona fa pace anche con Ferlaino, la stretta di mano dopo anni di polemiche e il riavvicinamento con il figlio Diego Napoli, bimba di otto anni, confezionava dosi di cocaina Le idee, quell'infanzia derubata che lo Stato non restituisce Lo scenario, la Russia sfila la Libia all'Italia Di taglio basso, la procura, cucchi ucciso dai carabinieri e maturità Ci mancava solo il sei politico Questa è la prima pagina del mattino In primo piano PD, volti nuovi per la segreteria, più giovani e amministratori Il leader stringe, spunta l'Emiliano Rossi in stand by, buon aiuto E la minoranza del Partito Democratico sulle elezioni anticipate Bersani avverte, governo avanti fino al 2018 Rimaniamo su questa pagina Di taglio basso Raggi elegibile, respinto dal Tribunale il ricorso anticontratto I magistrati del Tribunale Civile non entrano nel merito E dicono il ricorrente è fuori dal Movimento 5 Stelle Il legale costretto a pagare le spese 15 mila euro, esultano i pentastellati Lasciamo questa pagina E il caso Sud, incentivi a chi arriva prima ma iscriversi per ora non si può Bonus lavoro nel 2017 Solo 530 milioni E il portale dell'Inps non è attivato Quest'anno il bonus incentivi quindi per le assunzioni al Sud Prevede un limite anagrafico di 24 anni rispetto ai 29 del 2015-2016 E le risorse non sono infinite come in passato Proprio le risorse limitate preoccupano le imprese Che chiedono di attivare subito gli accessi E intanto il presidente della Svimez avverte Industria 4.0 taglia fuori il mezzogiorno Andiamo avanti con la Brexit Linea dura della May Stop alla libera circolazione La Premier e i tempi dell'addio Lasciamo l'Unione non l'Europa E l'opposizione Il laborista Cormin dice Il discorso è il discorso questo di chi vuole La botte piena e la moglie ubriaca Andiamo avanti con il focus del mattino Dall'export alla finanza Così Londra rischia Le limitazioni agli stranieri Peserebbero anche sui britannici residenti all'estero E per quanto riguarda le banche L'abbandono della piazza da parte dei grandi istituti Apre scenari anche per l'Italia In primo piano sul mattino C'è anche la lettera dell'Unione Europea all'Italia Sui conti e il colle Ma rigore anche per i migranti Bruxelles chiede misure per 3,4 miliardi Entro il primo febbraio L'infrazione è a un passo E Mattarella da Atene dice Giusta attenzione ma l'Europa faccia rispettare Tutti gli impegni comuni E poi c'è l'elezione L'Europarlamento Tajani presidente L'intesa a destra Esclude i socialisti Blocco tra PPA, conservatori e populisti Affossata la grande coalizione L'accordo con Alde e CR consente l'elezione con 351 voti contro i 282 L'elezione di Tajani quindi dopo l'accordo tra il PPE con Alde e l'ECR rimette in discussione tutti gli equilibri politici a Bruxelles E Pittella lo sconfitto dice Nasce un nuovo blocco conservatore E cambia il panorama politico Dall'Italia Da Gendilone e Renzi a Berlusconi e Bossi Auguri bi-partisan E la dichiarazione di Salvini Dice Tajani è solo l'ennesimo Domestico al servizio della Merkel Andiamo avanti con la prima pagina del mattino di Salerno Il titolo di apertura Premio ai vigili Subito bufera Incentivi legati al merito La cigella All'attacco Discriminati i nostri iscritti Polemica sull'indennità erogate per luci d'artista Applicate norme di valutazione sulla produttività Riflessioni L'arma delle bufale della prateria del web La nomina A Equambiente arriva l'ex PM greco Centro pagina Il calcio La Salernitana fisse il prezzo per Donnarum Abittante Gomis Primi colpi Granata E poi Colliano Bomba distrugge il bar La pista della vendetta Il caso Biagra online Un 57enne rischia la vita Gli articoli di fondo De Luca va avanti Ma non lascio il PD Il governatore accelera sul movimento E a Renzi Bel gesto la visita a Napoli Quali sono le reazioni? Campania libera Società in house del cambiamento E poi di taglio basso La storia Madre inadeguata Il minore affidato alla Tata Andiamo avanti con la politica L'incontro quindi Campania libera Accelera De Luca Ma non lascio il PD Rimpasto al palo In Regione Mal di pancia Nel gruppo Democrat E il leader che dice Il partito personale Fantapolitica Rottura con i Dem Imbecilità infinita E intanto Renzi a Napoli Senza il governatore E lettieri Le parole di lettieri Stima per Enzo Ma nessuna adesione E passiamo al Cilento E ballo di Diano Parco Stop Ai fondi Per stagre Ed eventi Il presidente Pellegrino Blocca i finanziamenti A pioggia Sospesi anche Gli indennizi Per i danni Da fauna selvatica Spazio solo Alle eccellenze E queste erano Le pagine del mattino Passiamo a Cronate L'apertura Mercatini E Babbo Natale Finanza Blitz Al Comune Le fiamme gialle Hanno chiesto Gli atti Della commissione Trasparenza Che si è occupata Delle due manifestazioni Nell'inchiesta Arriva un terzo PM Vincenzo Senatore Specializzato Nei reati finanziari Sequestrati verbali Con le dichiarazioni Di Di Lorenzo Cantarella Esposito E Loffreddo Centropagina Cartelle pazze Soget Zitarosa denuncia La truffa Allegano 60 euro Di spese legali Rimaniamo su centropagina Scoppia il caso Di Campania Libera Il PD attacca E De Luca Farneticano L'ipotesi Che io possa lasciare Il PD È un'imbecillità infinita Marenzi Snobba il governatore Sia il governatore Che il partito E si presenta A Napoli Da solo Visita Scampia E pranza Con Paolo Siani Nocera Stroncato Da un infarto Muore Ciro Annunziata Era stato Il riconosciuto Trascinatore Di mille battaglie Ambientali E sui diritti Civili Dalla lotta La barriera autostradale A quelle per l'acqua pubblica E contro il nucleare Commosso Il sindaco Malleo Torquato Battipaglia Di consolo Vi spiego io Il sistema Motta Pompei Cimitero Ossa umane Ritrovate a terra E cava dei tirreni Spaccio di droga Chiesti Per la gang 84 anni Andiamo a vedere Le pagine interne Mercatini E villaggio Di Babbo Natale I finanzieri acquisiscono I verbali Ieri mattina Presi gli atti Della commissione Trasparenza Preseduta Da Antonio Cammarota Ci sono le dichiarazioni Di Di Lorenzo Elvira Cantarella L'offredo E esposito L'indagine È coordinata Da IPM Montemurro Guarriello E senatore Consegnati Anche i prospetti Di assenze E presenze Alle varie sedute Rimaniamo Su questa pagina L'incontro In Forza Italia Nessuna frattura Ma bisogna capire Il momento Per cambiare Il passo Conferenza stampa Dopo le elezioni Di Fischi Nel Consiglio Provinciale Che dice Per me è un onore Mettere a disposizione La mia esperienza Per il territorio E anche In Forza Italia Ci sono Sensibilità diverse Ma nessuna frattura Un gruppo compatto Quello del centro-destra In cui dialogo E confronto Permettono La naturale crescita Del partito E il rafforzamento Della sua militanza A differenza Di quanto accade Altrove Si legge nell'articolo Forza Italia Come emerso Dalle parole Del commissario Provinciale Si presenta Come un partito Che ha ormai Fatto della dialettica Interna La sua arma Vincente Oltre che lo strumento Prediletto Per ovviare A qualsivoglia Malumore Senza mai Dover mettere mano Alle epurazioni Questo è quanto Emerso dalla conferenza Stampa di ieri Andiamo avanti Con Rocca d'Aspide Ospedale Adesso solo il TAR Può evitare Il declassamento I giudici amministrativi Si pronunceranno Il 25 gennaio Sul ricorso presentato Dal comitato Serpeggio Un sentimento Di pessimismo Molti danno Per scontata La riduzione A 20 posti La speranza Che da sempre L'ultima rea a morire È legata Alla decisione Che il TAR Assumerà Il prossimo 25 gennaio Quando i giudici Amministrativi Esamineranno Il ricorso Presentato Dal comitato Sorto in difesa Dell'ospedale Di Rocca d'Aspide Stando alle ultime notizie Dopo che l'atto aziendale Dell'ASL di Salerno È stato ritenuto Idoneo Quando è stato presentato Al baglio Della regione Campania Sembra proprio Che per il nosocomio Rocchese Si vada Verso il suo Ridimensionamento E i giudici Appunto si pronunceranno Il 25 gennaio Sul ricorso Di taglio basso Vallodidiano Il maltempo Crea disagio Al trasporto Degli studenti Appello Del Codacons In difesa Di chi non ha ancora Chiesto L'abbonamento Gratuito Queste erano Le pagine di cronache Con cui si chiude La prima parte Della nostra Rassegna stampa Diamo la linea Alla regia Per qualche minuto Di pubblicità Bentornati Di studio Per la seconda parte Della nostra Rassegna stampa Andiamo avanti Con le pagine Della città Il titolo Di apertura De Luca Renzi E sfida A Napoli La nascita Del movimento Regionale Campania Libera Rafforza il gruppo Del presidente L'ex premier Va a Scampia E si occupa Di sanità A Salerno Implode Forza Italia Sotto la testata Rivelazio di shock Perrella Così interredi Fiuto in tutta Italia Tariffe ferrovia Trenitalia Stangata sui pendolari E candidato Dei popolari Unione europea Tajani Eletto presidente Del Parlamento Centro pagina Salernitana Arrivano Bittante Gomis Granata Mettono finalmente A segno Due colpi Di mercato Oggi Prima seduta Di allenamento Per l'esterno E il portiere Gli articoli Di fondo Le analisi La sinistra Non ammette Scorciatoie E l'Europa Programmi Il futuro Gli articoli Di spalla Vigili Nazione Street control 4.400 Multe al mese E frazioni Alte Furti E rebus Telecamere Questa La prima pagina Della città In primo piano La politica De Luca Si rafforza Marenzi Non ci sta Il segretario Nazionale Va a Scampia E ignora I vertici Del partito E gli amministratori Il presidente Smorza le polemiche Dice il suo E un gesto Di attenzione Per tutti noi E Luigi Bosco Dice Ringrazio il governatore Per aver inaugurato Il nuovo movimento In terra di lavoro Già oltre 150 Le adesioni L'ex premier Intanto Ha ascoltato Le considerazioni Di Siani Sui minori Sulla sanità E sulla povertà minorile Bisogna scommettere Su cultura E educazione Rimaniamo Su questa pagina Con le parole Del sindaco Di Ercolano Buonaiuto Che dice Renzi Referendosi a Renzi È un leader Faccia crescere Il PD Ha dimostrato Capacità Di rinnovamento Andiamo avanti Sempre con la politica Dopo le provinciali E scontro In Forza Italia Salerno Chiesto il cambio Dei dirigenti Zitarosa Se una squadra Non mince Si sostituisce L'allenatore Chiaro il riferimento A Fasano E Ciccone Rincara la dose Nessuno può andare A caccia di poltrone Senza avere i voti E Enzo Fasano Poco dopo Poco prima Delle dichiarazioni Di Zitarosa Aveva confermato La sua volontà Di continuare A guidare I forzisti Salernitani Convinto Che alle prossime Politiche Si possa anche vincere Fasano Infatti Prima dello sfogo Di Zitarosa Aveva pure Gettato l'acqua Sul fuoco Delle polemiche Sostenendo Come in Forza Italia Tutti siano liberi Di esprimere Il proprio pensiero E assumendosi Anche le responsabilità Di qualche errore E poi Zitarosa Sconvolge tutti i piani E dice la sua Prendendo di sorpresa Un po' tutti Dice Le nomine Non devono più essere calate Né da Roma Né da Napoli Dobbiamo decidere noi E per questo Deve essere subito Convocato Il direttivo E intanto Fiscina Nella Bagarsi Non si scompone Annuncia Battaglia A Palazzo Sant'Agostino Promettendo Ferro e Fuoco Già dal prossimo Consiglio Provinciale E invita Forza Italia A ritornare Tra la gente E a riscoprire Il porta a porta Questo l'invito Di Fiscina Andiamo avanti Con le rivelazioni I rifiuti tossici Interrati in tutta Italia Questo in un libro Le testimonianze Di Nunzio Perrella Il primo pentito Che ha svelato Il business E di taglio basso C'è un estratto Del paragrafo O sistema Del libro Appunto Oltre Gomorra I rifiuti d'Italia Feci sparire Quintali di olio Esausto Iniziò così Il grande affare Dei clan Gli imprenditori Avevano fatto cartello E così lucravano Anche sui trasporti I casalesi Capirono Che potevano Mettere le mani Su una montagna Di soldi Andiamo avanti Con Trenitalia Nuova Stangata Sui pendolari Aumentano Del 35% Gli abbonamenti Settimanali Per i Frecciarossa Rivolta Bipartisan E appello Di De Luca Alla società Da febbraio Viaggiare Da Salerno A Napoli Costerà 230 euro Sulla tratta Per Roma La tariffa È 521 euro Per sette giorni E 463 Fino al venerdì E da De Magistris Avaliante Anche i sindaci Protestano Chiesto Al presidente Della regione Di intervenire Subito Per bloccare La decisione E rivedere Le tariffe E passiamo Al Vallo Di Diano Emergenza Scuole Polemica A Sala Consilina Il sindaco Ieri ha emanato L'ordinanza Solo pochi minuti Prima dell'apertura Numerosi studenti Anche dai centri Lontani Hanno inutilmente Raggiunto Le aule A Sala Consilina Si legge Nell'articolo Ieri sono Insorti I studenti Delle scuole Superiori La chiusura Delle scuole Disposta Nella mattinata Di ieri Dall'amministrazione Comunale A causa Della neve Ha scatenato Forti Polemiche È assurdo Quello che è accaduto Oggi Spiega Giovanni Paladino Rappresentante Negli studenti Del liceo Classico Marco Tullio Cicerone Di Sala Consilina Ci sono Ragazzi Non solo Del liceo Ma anche Di altri Istituti Superiori Bloccati A Sala Consilina Perché partiti In autobus Dei loro Comuni Di residenza Prima che venisse Pubblicata La notizia Della chiusura Delle scuole È una situazione Che poteva essere evitata Semplicemente Facendo l'ordinanza Ieri sera Quando ha iniziato A nevicare Tra l'altro Il peggioramento Delle condizioni Atmosferiche Era stato Già previsto Nel pomeriggio L'amministrazione Ha avuto poco rispetto Nei confronti Di chi viaggia Ci auguriamo Che in futuro Possa esserci Maggiore accortezza E rispetto Nei nostri Confronti E intanto Passiamo a Sant'Arsenio Da San Pietro In aiuto Al paese Sei persone Di San Pietro Altanagro Ieri sono state Impegnate Per diverse ore Nel ripristinare La viabilità Nel comune Vicino di casa Di Sant'Arsenio L'agente Della polizia Municipale Di San Pietro Altanagro Rosanna Salerno E Marianna Iannone Responsabile Dell'associazione Fataollus Protezione Civile Insieme a due Volontari E a due dipendenti Di una cooperativa Che presta Servizio presso Il comune A bordo Dello spazzaneve Comunale Di un mezzo Spargisale Hanno liberato Dalla neve Le strade Che conducono Alla residenza Per anziani In località San Vito Nella parte alta Di Sant'Arsenio E inoltre Hanno reso Percorribili Le strade Per raggiungere Le scuole Il municipio E l'ufficio Postale Queste Erano le pagine Della città Passiamo Alla nuova Il titolo Di apertura Botte Minacce E spedizioni Punitive Imponevano Il servizio Di security Nelle discoteche A colpi Di intimidazioni Quattro arresti A potenza Secondo la procura Avrebbero agito Con il metodo Mafioso Anche perché Ritenuti Vicini Al clan Martorano Stefanotti Centropagina Smaschereremo Ogni disegno Speculativo Contro Melfi E schema Idrico Basento Bradano Benedetto Al Consorzio Firmate Ancora centropagina Pietrapertosa Operaio Di Oliveto Muore Schiacciato Da un albero Lago Negro Anche l'insidia Ghiaccio Per entrare In ospedale E ancora Centropagina Matera 2019 Ecco i manager De Luca E De Ruggeri Appese al PD A potenza Di parte Il Balzer In giunta E derby europeo Amaro Per Pittella Al quarto scrutinio Alla meglio Tajani Del P.P.E. Per 69 voti Presidenza italiana 38 anni Dopo Colombo Di taglio basso Volley A2 Stasera in palio Tre punti pesantissimi Per Lago Negro Serie D Recuperi infrasettimanali Per Francavilla Vultur E Picerno Ancora Serie D Dionisio A potenza Per dare Serenità E stabilità Questa era la prima pagina Di La Nuova Con cui si chiude La nostra rassegna stampa Vi ringrazio Di averci seguiti E vi auguro Buona giornata Grazie a tutti A presto Grazie a tutti Grazie a tutti.